Ciao a tutti, sono sempre Greg e questo è il mio canale In Genere Horror. Abbiamo una data ufficiale per l'uscita di un nuovo capitolo del franchise Evil Dead. Il 20 aprile di quest'anno del 2023 esce in sala Evil Dead Rise, la casa e il risveglio del male, questo è il titolo italiano. È un film che esce a dieci anni di distanza da Evil Dead, la casa di Fede Alvarez che era il remake diretto del film dell'81 Evil Dead, la casa di Sam Raimi. Questa volta dieci anni dopo la regia passa a Lee Cronin e ci si sposta anche da un punto di vista narrativo, ci si stacca direttamente da quello che è stato il progetto di quel remake del 2013 e la narrazione si sposta in città, non più il mitico e iconico chalet in mezzo al bosco, ma la grande città con nuovi protagonisti e con una situazione sempre legata al necronomico, ai demoni eccetera eccetera. Però la situazione narrativa è completamente diversa, tra l'altro andando a far svanire quelle che potrebbero essere le speranze dei fan di vedere un universo narrativo che mettesse insieme sia gli avvenimenti con Ash protagonista, quindi Bruce Campbell, dei primissimi film con quello che è successo nel 2013 con il remake, tra l'altro il remake che giocava un po' ad essere un sequel nascosto perché c'erano delle situazioni che narrativamente parlando sembravano essere successive al film dell'81 di Sam Raimi, una su tutte come esempio la macchina, iconica macchina utilizzata da Ash nei tre capitoli di Evil Dead, Evil Dead 1-2, L'Armata delle Tenebre, qui nel film del 2013 è presente e arrugginita, sembra aver subito i segni del tempo e soprattutto c'era un rimando alla fine dei titoli di coda nella versione americana dove Ash, Bruce Campbell si girava verso il pubblico a modo di strezzatina d'occhio con la sua tipica espressione dicendo groovy che utilizza molto nei film Evil Dead e sembrava quasi richiamare un qualcosa che potesse legarsi narrativamente con i due film tra passato e presente, non si è più fatto nulla almeno ad oggi, quindi come si arriva a questo ultimo titolo che vedremo in sala quest'anno? E' meglio fare un po' di ordine su tutti quelli che sono stati i titoli precedenti cioè il franchise Evil Dead ma non solo perché attorno al franchise Evil Dead ci sono una miriade di titoli che richiamano quello ma lo richiamano perché ci sono stati dei, chiamiamoli pasticci, però delle mosse commerciali distributive che hanno fatto grandissima confusione all'interno di quello che sembra essere una saga ma che in realtà non lo è, intitolata La Casa. E partiamo con ordine. Cosa succede? Nel 1981 un giovanissimo Sam Raimi cerca, partendo dall'idea di un corto, di racimolare quei soldi per poter fare un film. Riesce a fare Evil Dead che è prodotto nell'81 dopo due anni di lavorazione, faticosa perché con pochi mezzi, fatta tra amici, con espedienti per risolvere i trucchi durante la lavorazione del film, con trovate ingegnose e geniali come quella rudimentale utilizzo della Steadicam che in realtà sembra proprio essere una moderna Steadicam con questa scena famosissima del demone che serpeggia nella foresta. È un film subito iconico, è un film cult, è un capolavoro assoluto della storia del cinema che lì per lì però quando esce in America solamente nel 1983 rispetto all'anno di produzione 81 non ha un grandissimo successo, è un film un po' difficile, splatter, di rottura, è particolare. Però pian piano anche in America avrà un grandissimo successo come avrà successo a livello planetario, soprattutto in Italia che esce nell'84 ed esce con un titolo furbescamente trasformato dai distributori italiani in La Casa, titolo molto suggestivo con questa C a forma di lama insanguinata che verrà ripresa dai seguiti più o meno ufficiali titoli che richiamano La Casa all'interno di titoli che non centrano assolutamente niente con Evil Dead, insomma adesso lo vedremo e grazie anche a questa furbata, a questo titolo e grazie anche a una locandina che rappresentava una casa che nulla ha a che fare con lo chalet nel bosco del film Evil Dead ma che è sostanzialmente quella di Norman Bates di Psycho quindi con queste due furbate una casa tipica spettrale dove poter ambientare un film horror, un classico film horror e il titolo La Casa con questa C insanguinata ecco che La Locandina era anche un modo per attirare il grosso pubblico che comunque apprezzava il film quindi sale piene e grandissimo successo. Che succede? Già un piccolo pasticcio perché nel frattempo nell'86 in America viene prodotto House diretto da Steve Miner che già conosciamo per aver diretto un paio di venerdì 13 e House arriva anche in Italia. È chiaro che non lo si può chiamare La Casa perché il titolo è già stato utilizzato e quindi si pensa bene di utilizzare un titolo come Chi è sepolto in quella casa o narrativamente parlando è tutta altra cosa non c'entra nulla con Evil Dead questa storia è completamente diversa però La Locandina ha quel casa scritto con la C con lo stesso carattere con la stessa lama insanguinata la C a forma di lama insanguinata che richiama ovviamente visivamente la casa di Sam Raimi. Nell'87 c'è però un frattempo la grande occasione per Sam Raimi di fare un film con i soldi rispetto alla primissima produzione dell'81 a bassissimo budget. Con Evil Dead 2 ha la possibilità di esprimere tutto il suo talento il film è un remake sequel e in realtà sulla carta ovviamente è un sequel parte come un remake perché alla fine dei rimandi di un riassunto di quello che succede nel primo capitolo viene in qualche maniera reinterpretato poi il film prende la sua linea narrativa ed è di fatto un sequel però tanti lo intendono entrambi come sia un sequel vero e proprio ma un remake per la possibilità di poter mettere in campo tutti in scena tutti i mezzi che economicamente non era possibile utilizzare nel primissimo episodio. Capolavoro anche questo assoluto c'è chi lo preferisce addirittura il primo film ma siamo siamo lo stesso livello qui c'è qualche soldino in più che ha potuto utilizzare. Il film esce ovviamente in italia e non può essere che che utilizzato il nome la casa 2 va da sé grandissimo successo anche questo. Sempre nell'87 nello stesso anno in america pensano bene di fare house 2 che è in seguito di quella house uscito nell'86 che da noi è chi è sepolto in quella casa ma che non ha nulla a che fare narrativamente parlando né con Evil Dead ovviamente ma nemmeno con il suo house che di cui dovrebbe essere il seguito. In italia non si può far altro che inventarsi un altro titolo e viene chiamato la casa di Ellen. Nel frattempo i distributori italiani e i produttori italiani vedono che film con il titolo la casa ma anche titoli inventati come la casa di Ellen che supporti per la casa hanno un notevole successo in sala pensano bene di cominciare a produrre qualcosa made in italy e cominciano con la casa 3. Nel 1988 Giordamato Massaccesi con la sua film Mirage incarica Umberto Lenzi di dirigere appunto la casa 3 che è numericamente il seguito della casa 2 ma che non c'entra assolutamente nulla con Evil Dead 1 e 2. Ellen è andato effettivamente in una casa avranno fatti drammatici all'interno di questa con i soliti protagonisti la storia è semplice però Umberto Lenzi è un bravissimo regista ci sa fare mette in scena un bel film piacevole di intrattenimento che va anche all'estero con il titolo di Ghost House. Lo stesso anno per cavalcare il successo della casa 3 viene prodotto anche la casa 4. Produzione ancora più importante con l'ingaggio di David Asselov, di Linda Blair, insomma il cast artistico è già più importante rispetto alla casa 3 e il film ha anche questo un grande successo è sempre di produzione di Giordamato la regia è di Fabrizio Laurenti film che non c'entra nulla con la casa 3 ha sempre come protagonista delle persone che si recano in una casa e vengono dei fattacci qui perlomeno le case nella casa 3 e nella casa 4 rispecchiano quelle che ci sono che sono le case nella copertina e perlomeno c'è un minimo di filologico dicevo la regia di Fabrizio Laurenti che sostituisce all'ultimo momento Claudio Lattanzi che era stato incaricato aveva scritto il soggetto collaborato anche la sceneggiatura ma alla fine gli viene portato via la direzione del film viene incaricato Fabrizio Laurenti per probabilmente degli scherzi a livello lavorativo insomma le strade si separano tra Lattanzi e Giordamato Massaccesi e quindi il film viene dato a Laurenti grande successo anche questo sia in sala che in home video e in tv perché ci sono numerosi passaggi anche televisivi il film esce con il titolo di Witchcraft anche come Ghost House 2 per cavalcare il successo del primo Ghost House La Casa 3 e in America esce come Witchery passano un paio d'anni però si fa abbastanza in fretta e si utilizza ancora il titolo La Casa per il quinto capitolo La Casa 5 fa parte di questa trilogia delle case italiane ma ognuna con una storia a sé stante anche qui c'è una casa con tutti i fattacci che avvengono all'interno la storia è completamente diversa si chiama Beyond Darkness all'estero ed è diretta da Claudio Fragasso stessa produzione Giordamato c'è anche Achille Manzotti che è da parte anche distributiva qui c'è da dire che però il film è leggermente sottotono rispetto al 3 e al 4 che sono dei bei film horror commerciali finché volete ma funzionano funzionano in Italia ma sono anche all'estero funziona anche La Casa 5 tanto che viene esportato viene trasmesso molto in tv ha una scena post credit tra l'altro che in tv viene tagliata se ricordo di solito vengono tagliati i titoli di coda quindi se riuscite a vederlo in un video guardate c'è una scena post credit del resto delle trame non parlo perché secondo me vale la pena intanto sono trame semplicissime una casa e i fattacci che vengono all'interno demoni non demoni e i titoli che sguazzano con fantasia richiamando i termini La Casa nel frattempo nell'89 ma in realtà esce nel 90 nel 1990 in un video in Italia esce The Horror Show di James Isaac che in America viene anche chiamato House 3 il problema è che bisogna dargli un titolo in Italia e The Horror Show sembra troppo semplice House 3 non dice nulla perché confonderebbe le acque perché in Italia siamo già arrivati alla casa 5 quindi toccherebbe la casa 6 peccato che la casa 6 è già occupata da chi detiene i diritti per la distribuzione che ha già prodotto la casa 3, 4 e 5 e sta mettendo in cantiere la casa 6 quindi per questo The Horror Show si decide di dare il titolo della casa 7 successivamente dovrebbe uscire la casa 6 ma non si farà in tempo perché nel frattempo il progetto non va avanti quindi abbiamo una casa 7 lasciando il buco della casa 6 che non viene più utilizzato si diceva anche che il progetto fosse anche avviato e la regia era data in mano al figlio di Margheriti però altro non se ne sa e il film è stato lasciato con un nulla di fatto sempre tra l'88 e il 90 perché nel 88 viene prodotto e nel 90 arriva in Italia in non video arriva Dream Demon questo Dream Demon è un titolo che non viene utilizzato nella distribuzione italiana richiama però in realtà quella che è la trama del film perché gioca con gli incubi legati alla realtà un po' come fa ovviamente un altro film di tutt'altro spessore cioè Nightmare però qui si gioca un po' con gli incubi legati alla realtà e avrebbe un senso peccato che in Italia si utilizza e si sceglie un titolo molto più evocativo riprendendo i soliti titoli la casa e si sceglie il titolo la casa al numero 13 si gioca anche con il concetto del 13 di venerdì 13 e si gioca anche con il fatto che i caratteri di al n che sta per al numero sono talmente piccoli nella locandina che sembra di leggere la casa 13 dalla casa 7 si passa direttamente alla casa al numero 13 che sembra però essere il continuo di un numero 12 e precedenti che non sono mai usciti tanto per creare continuamente confusione nel 92 finalmente un qualcosa che c'entra con Evil Dead di Sam Raimi esce infatti Army of Darkness che è il terzo capitolo del franchise Evil Dead ma che non si chiama Evil Dead 3 si chiama Army of Darkness e questo aiuta parecchio anche i distributori italiani che non devono lavorare di fantasia ma traducono il titolo e fanno uscire il film come l'armata delle tenebre altrimenti avrebbero dovuto veramente faticare e cercare di trovare un qualcosa di logico per riuscire a chiamarlo quello che non poteva essere chiamato la casa 3 anche perché qui di case non ce ne sono non c'è nemmeno lo chalet tutto si svolge nel passato perché si riallaccia a quello che succede alla fine della casa 2 che non dico perché se qualcuno il film non l'ha visto se lo vado a recuperare e vedrà come si riallaccia con l'armata delle tenebre dove abbiamo ancora Ash che nel passato dovrà sconfiggere i demoni armato di motosega e fucile con la sua macchina inseparabile il film è un cult assoluto un successo di pubblico inferiore ai primi due ma è un cult assoluto si calca molto sull'aspetto ironico perché mentre i primi due film il primo era un horror sostanzialmente un horror splatter c'era qualche situazione ironica ma molto accennata nel secondo la parte ironica è un po' più presente quando Ash si taglia la mano e la mano impossessata li salta addosso la motosega al posto del braccio utilizzata come arma cioè la componente ironica è molto ben presente ma sempre all'interno di un film splatter che fa paura in molti aspetti e in molte situazioni con l'armata delle tenebre l'aspetto ironico lo fa veramente da padrone totale e il film è cult anche per essere un certo tipo di horror ironico e comico di questo livello di grande livello diretto da Sam Raimi questo è il terzo e ultimo capitolo firmato da Sam Raimi del 92 che in teoria chiude un po' tutto il cerchio per quanto riguarda tutta questa serie di film che vanno dal primo Evil Dead all'ultimo finora firmato da Sam Raimi con all'interno tutta una serie di terminabili titoli che riprendono titoli italiani utilizzati per la distribuzione italiana ma che non hanno nulla a che fare con i tre Evil Dead o meglio i primi due Evil Dead e l'armata delle tenebre di Sam Raimi se vogliamo però veramente chiudere completamente il discorso sempre nel 92 esce un altro film che si chiama House 4 produzione americana presenze impalpabili come secondo titolo come titolo inizialmente scelto per l'Italia ma che alla fine esce anche con un altro titolo chi ha ucciso Roger con il nome Roger che rimanda un po' al Roger Rabbit chi è incastrato Roger Rabbit come è scritto in locandina quindi anche qui si gioca tantissimo con i rimandi per attirare pubblico e House 4 tra l'altro appunto non c'entra assolutamente con Evil Dead però l'ho citato perché almeno c'entra qualcosa con il primo House quello che era uscito nell'86 che da noi è uscito come chi è sepolto in quella casa quindi un piccolo rimando c'è solo perché appunto la fantasia di distributori italiani ha cambiato tutte le carte in tavola e ha fatto una confusione totale sui titoli spero che la confusione invece io sia riuscito un attimo a risolverla cercando di fare a livello temporale tutta la lista di film fino al 92 perché poi alla fine dal 92 in poi non è che sia finita la moda di utilizzare il termine la casa per i titoli ma ci sono film che non c'entrano completamente niente neanche a livello di locandina di richiami con la C con la lama c'è qualcosa troverete sicuramente altri titoli ma io mi fermo al 92 92 dove tra l'altro c'è il terzo capitolo firmato da Sam Raimi da lì si salta il 2013 con il remake di cui abbiamo parlato prima di Fede Albares Evil Dead la casa e poi dieci anni dopo è pronto ad essere distribuito appunto Evil Dead Rise la casa il risveglio del male questo è un po' tutto il riassuntone su quello che una saga unica non è questa era la grande fantasia che avevano i distributori italiani negli anni 80 non c'è niente da non si può dire nulla perché oltre alla fantasia a livello distributivo c'era anche fantasia e intraprendenza a livello produttivo e infatti i film li producevano anche la testimonianza è data dal fatto che si è prodotto la casa 3 la casa 4 la casa 5 la casa 6 in realtà non si è mai fatta e lascia il buco prima della casa 7 che è produzione americana ma tra l'altro c'è da dire che con la casa 5 siamo nel 1990 ormai è la fine degli anni 80 e l'inizio della decadenza di quello che poi è la sparizione della produzione horror di un certo tipo in Italia del cinema di genere in Italia ci sarà ancora qualche film nei primi anni 90 ma di fatto la casa 5 del 90 segna un po' è emblematico il motivo per cui con questo non si riesce poi a fare la casa 6 che doveva essere fatto di lì a poco alla prossima